si diciamo che io rappresento un po' paradossalmente la quota geriatria per cui prima gli ho detto ai bengala farei devo dire i bengala fire straordinari mi hanno proprio colpito però anche spaventato perché ho detto raga mi raccomando quando c'è uno sul palco non spacchiamo niente non portiamoci bene mio è un tono sempre parrocchiale come stai è la frase l'esordio nel mondo che è un tono tutto bene ho una casa che sto lavorando ogni giorno di cosa vuoi che scriva di cosa vuoi che parli è il mondo il pensiero peggiore del mondo che ho intorno tasso fisso con l'oribor c'è chi sta impazzendo da un anno che cosa vuoi che scriva di cosa vuoi che canti di come è facile andare quando non sai guidare di come è triste Natale senza mio padre il caosso e la sole arredigione le mondo che ho intorno una pizza, una birra e poi andremo a ballare, già al mare, che cosa vuoi che dica, di cosa vuoi che parli, di come grande è il mare, quando non sai nuotare, di come navigare al rallentatore, forse dentro me cambiano le cose, forse dentro me cambiano le cose, dentro al mio giardino nascono le rose, lai 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 la Come stai? E' la frase d'esordio nel mondo che ho intorno